Oggi voglio condividere con voi la grande trasformazione di Elisa. Questo è il cambiamento che Elisa ha ottenuto in un anno e sette mesi da quando segue il mio coaching online. Come dico sempre non sono io a parlare, ma i fatti e le persone che mi seguono. Qui ti mostro la chat nella quale lei mi esprime la sua gioia dopo soli sette mesi, durante i quali è riuscita a perdere 12 kg che da anni non riusciva ad eliminare. È importante sottolineare che Elisa non ha seguito nessuna dieta restrittiva. Io non posso prescrivere diete e non è mia intenzione farlo. Ciò che abbiamo fatto è stato costruire insieme un piano di allenamento adatto a lei, costruito intorno alle sue esigenze e lavorare attorno alle sue abitudini sane e alla consapevolezza fisica e alimentare. Veniamo al punto, voglio spiegarti velocemente cosa faccio nei miei coaching online. Il mio obiettivo principale è educare i partecipanti a uno stile di vita corretto, migliorando la loro salute e il loro benessere complessivo. È un processo semplice e accessibile a chiunque sia interessato, purché si abbia la conoscenza di come farlo. A settembre aprirò le iscrizioni per il mio nuovo coaching online. Se sei interessato a farne parte e intraprendere un percorso verso il miglioramento della tua vita, fammelo sapere qui sotto nei commenti.